La cosa fondamentale è non fare calcoli perché noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi. Il destino dipende solo da noi, quindi noi andiamo a Brindisi e ci concentriamo solo sulla nostra partita. Gaetano Zingrillo non ha dubbi. Negli ultimi 180 minuti della regular season il Barletta deve pensare solo a se stesso. Il derby di Brindisi contro la seconda della classe ha il sapore del crocevia stagionale. Una vittoria al Fanuzzi blinderebbe di fatto i playoff a patto di fare risultato sette giorni dopo contro il Vieste mentre una sconfitta costringerebbe i biancorossi di Franco Cinque a stifare per la Fortis Altamura negli ultimi due turni, battere i garganici e sperare che il Brindisi non batta l'Unione Calcio Biceglie nell'ultima giornata. Con un pareggio servirebbero sei punti della Fortis contro Mesanni e Terlizzi e una vittoria sul Vieste. Via la calcolatrice, dentro la forza del gruppo. Il segreto, secondo Zingrillo, è questo. Già da ieri comunque ci stiamo allenando per preparare questa partita per noi molto importante quindi siamo carichi in vista di domenica. La squadra è carica, la vittoria in casa con il Molfetta di domenica ci ha messo tanta carica, tanta autostima e abbiamo tutte le carte regola per giocarci la partita domenica. L'ultimo weekend è stato quello dei ritorni in casa Barletta. I biancorossi hanno ritrovato la vittoria con il 2-1 al Molfetta. Zingrillo si è rivisto nel ruolo nel quale aveva iniziato la carriera, laterale e sinistro di difesa. Un ritorno alle origini festeggiato con una prova maiuscola. È un ruolo che ho ricoperto parecchi anni fa, però devo dire che comunque mi sono adattato bene, mi sono messo a disposizione del mister come ho fatto anche in altre occasioni quest'anno. All'andata, con l'1-0 del 9 dicembre, il Barletta aveva raggiunto la seconda posizione e cullato anche sogni di vetta. Un girone dopo il Brindisi ha allungato su Milella e Soci. Zingrillo ha come stella polare quella partita e confida nella presenza dei tifosi biancorossi. La questura si esprimerà nelle prossime ore in merito al Fanuzzi. Spero comunque di vederli in massa domenica Brindisi e speriamo di regalare questa vittoria a loro.